Noi abbiamo fatto una campagna che doveva essere il più possibile diversa dalle altre, ma non per una diversità così nominalistica, ma per una diversità anche di contenuti, quindi non abbiamo fatto promesse, ci siamo mantenuti molto sulla coerenza, quindi nessun apparentamento dalla prima volta che ci siamo incontrati, quindi sotto questo profilo è mancato che Roseto ha circa un quinto, il 20% dei voti al centro-destra, mentre tutti gli altri sono voti del centro-sinistra, questa è una chiave di lettura immediata, quindi noi dovevamo andare a pescare dalle altre parti, perché non c'era un centro-destra formato da altri partiti, quindi è stato ovviamente molto duro, anche se devo dire la verità che avevamo tutti quanti il sentore di poter recuperare.